Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina ci occuperemo ancora una volta della tematica delle bollette di luce e gas. Come sappiamo dall'11 gennaio non esiste più il mercato tutelato per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda la luce e la fine del mercato tutelato è prevista a luglio. Quindi come orientarsi, cosa fare, abbiamo letto dalle cronache molti casi di bollette pazze con delle cifre che uno non si aspettava per capire come fare, cosa fare, come accedere al mercato delle persone vulnerabili, insomma come districarsi in una offerta molto ampia perché ovviamente nel mercato libero molte le aziende che si sono messe anche a vendere gas e luce elettrica, ho qui con me oggi il presidente di Feder Consumatori Venezia Paolo Ormesi. Giusto, ho sbagliato l'accento. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Innanzitutto come mai arrivano queste bollette da infarto? Le bollette da infarto arrivano per quelli che avevano fatto i contratti precedentemente, a tariffa fissa, soprattutto arrivano oggi quelle che vediamo noi, sono quasi tutte fatte da Enel o da Eni, o Plenitude, oggi chiamata Plenitude. Sono tariffe che sono praticamente scadute, quasi tutte, e i contratti sono scaduti verso maggio-giugno dell'anno scorso, quindi in piena estate. Cosa è successo? Che non ci si è accorti dell'aumento che loro hanno messo in modo arbitrario, nel senso che è scaduto, nessuno si è fatto vivo, e loro hanno messo una tariffa altissima, siamo oltre i due euro a metro cubo, ma d'estate i consumi sono molto ridotti, uno si va a vedere la bolletta, costi molto bassi, non se ne è accorto, e se ne è accorto ottobre, novembre, dicembre, quando il consumo è stato elevato e quando c'è stato appunto conteggi intorno ai, che superavano i mille, 1200 euro per una... Ma mi scusi, se a maggio-giugno scadeva l'offerta fatta, arriva se non sbaglio la lettera, dove si dice... Dovrebbe arrivare... Dal giorno X cambiano le tarifazioni, se hai qualcosa devi segnalarlo, però in molti casi in questa lettera c'era scritto anche che più o meno permanevano le condizioni in atto. Allora, se rimanevano le condizioni in atto, non potevano averlo cambiato, se uno ha la lettera, in questo caso... Il problema è che la lettera, intanto non sappiamo a quanti sia arrivata veramente, molti asseriscono di averla mai ricevuta e io ci credo, solo che non è dimostrabile, perché le società ti dicono, noi l'abbiamo inviata. Ma non sono obbligate a fornire un riscontro? No, 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 anzi, infatti sarà una di quelle cose per cui si dovrà rivolgersi anche al giudice, nel senso che questi pretendono che sia il consumatore a dimostrare di non averla ricevuta, che non è né tracciabile, perché non è che abbiano mandato una raccomandata, anzi, il più delle volte era una lettera all'interno di una busta pubblicitaria, che penso che tanti l'abbiano anche ricevuta. Ma non l'abbiano neanche aperta, proprio perché poteva essere una delle offerte solite e che quindi uno lo prende come Deplian informativo. Però teniamo presente che comunque queste aziende sono già state multate dall'autorità, in modo non sufficientemente adeguato. No, parliamo di più di... Ah, in modo pesante. Sì, molto pesante, però, ed è proprio per questo che anche si fa fatica a ritornare indietro, insomma. Allora, che siano state multate le società, questo è una buona notizia, però il consumatore che si è ritrovato queste bollette, non potendo dimostrare di non aver avuto comunicazione, o probabilmente magari in alcuni casi questa lettera è anche arrivata, ma non era specificato che dal giorno X poi ci sarebbe stato un aumento così importante, no? Che magari non è stato quantificato l'aumento. Che possibilità ha di rivalersi di... Perché rivolgendosi ad un'associazione di consumatori come la vostra e avviando un percorso ovviamente legale o paralegale di risarcimento, mi sembra che non ci siano molte chance. Allora, per il momento io direi di non fare nulla, non possiamo fare nulla. Pagare. Nel senso che pagare va pagata. Quello che stiamo facendo, quindi indipendentemente da chi si è rivolto a noi, è che stiamo lavorando sia con l'autorità sia con le due aziende che abbiamo citato, per vedere di arrivare anche a degli accordi. È molto difficile perché queste aziende non ne vogliono sentire parlare. Questo è il problema fondamentale. Quindi quello che possiamo fare è purtroppo aspettare. Quello che noi consigliamo è non farsi prendere dal panico e immediatamente chiedere una variazione del contratto, dell'offerta. In realtà i contratti non scadono mai. Ma infatti è l'offerta che ha valore. È l'offerta che ha valore limitato. E si può fare immediatamente? Si può fare telefonicamente o andando agli uffici di queste aziende. Si chiede immediatamente una variazione. E si pretende che la variazione parta dal mese successivo. Perché attenzione, perché questi ti dicono, ok, però parte dopo due mesi, quindi in realtà paghi due mesi. Questo diciamo perché? Perché sicuramente se si cambia, perché tanti arrabbiati con queste aziende, si sentono offesi da questo fare e la prima cosa è che allora io cambio aziende e vanno via. Infatti cambia il gestore. Invece? Invece lì, purtroppo, almeno per due mesi, sei sicuro che paghi quelle tariffe. Quindi molto meglio... Rinnegoziare con il gestore. Rinnegoziare e poi eventualmente cambia. Cioè nessuno dice di rimanere. Però la prima cosa è rinegoziare. E ovviamente rinegoziare come fa uno a sapere quali sono i parametri giusti? Ecco, Arera. Innanzitutto il sito... A parte che sul sito di Arera si trovano i costi che ci sono, eccetera. Comunque ogni azienda ha una serie di offerte. Magari prima si va a vedersi le offerte in internet, dove è possibile vedere. C'è una sfilza di offerte e si vede quella che è più conveniente. Però spesso le offerte vengono presentate con il costo al metro cubo, piuttosto che parleremo poi della luce al kilowatt. Che questo è un costo a cui bisogna aggiungere tanti elementi. E poi ci sono delle variabili che ogni azienda può decidere in maniera dipendente. Penso il costo del trasporto, il costo della distribuzione. Ecco, ci può dire quali voci possono essere variabili? Perché magari in quella voce si annida l'elemento che poi alla fine ti porta a pagare comunque al metro cubo complessivo una cifra che non è delle più basse. Ci sono dei costi di commercializzazione. Perché tutti i costi di trasporto, l'IVA, eccetera, sono validi in generale, universalmente. Quindi tutte le aziende non possono variare. Sono parametri fissi? Sono parametri fissi che troviamo dappertutto. Che sono quali? Ah, ce n'è una sfizza. Ce n'è una sfizza che credo qui... Però nel sito di Arera si trovano tutte queste voci? Sì, 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 si trovano. Ma anche se aprendo una bolletta si vedono quali sono. Poi ci sono i costi che variano. Sono il costo a metro cubo, parliamo di gas, quindi il costo a metro cubo. C'è il costo che normalmente viene messo, che è un costo effettivo di commercializzazione, viene messo 1,0,50, poi dipende dai contratti che ci sono. Questi però sono solo e esclusivamente su chi fa la richiesta di una tariffa variabile, che appunto si basa sul costo del metro cubo. Per scegli invece, scegli la tariffa fissa e sulla tariffa fissa questi già si coprono subito. Allora, vogliamo dirlo che oggi, a febbraio, perché il dato che abbiamo chiaramente è quello di febbraio, il prezzo di Arera a metro cubo è intorno a 0,30 centesimi, grosso modo, intorno a 2,9, insomma, diciamo 0,30 per comodità. Quindi tenete presente che quando pagate a metro cubo più di 0,30, vuol dire che state pagando il gas caro, molto più di quanto dovreste pagarlo in realtà. E poi, quindi, su questo poi loro aggiungono dei costi di commercializzazione. Ma questi costi, tra l'altro, facciamo fatica anche noi alle volte a vederli. Che non sono... No, sono molto nascosti nelle bollette. Però variano da gestore a gestore. E perché? Certo, certo. Dov'è la libertà? Dipende da loro? La libertà. Perché sa, ecco che qui tocchiamo il vulnus. Io posso vedere lo 0,30 al metro cubo e questo 0,30 può lusingarmi, perché dico siamo in linea con Arera. Poi però, quando vedo, se prendo il costo della bolletta, magari Scorporo, Oliva, che ovviamente è quella adesso dal 5 è diventata al 22%, divido per i metri cubi e vedo che alla fine, magari a costo minore al metro cubo, pago di più che al costo minore, al costo maggiore in un altro gestore al metro cubo. Succede? Questo non credo, però, guardi, sono 850 le aziende che distribuiscono. No, anche perché ci aiuti a leggere queste bollette. Allora, leggere le bollette sinceramente è molto... Perché alcuni sono trasparenti, altri aumentano... Il discorso è questo, che sulle bollette che ci arrivano sono semplificate. Allora, se uno vuole avere la bolletta, deve richiederla. E gli arriverà una bolletta che poi sarà ancora più difficile da leggere, da interpretare, per cui diventa tutto difficile. Noi stessi, quando qualcuno si rivolge ai nostri sportelli, ha bisogno di conoscere alcune voci, alcune cose, dobbiamo chiedere la bolletta... Del dettaglio. Nel dettaglio. Per capire dove sta l'inghippo. Per quello che dico che alcuni sono nascosti. Perché sulla bolletta che arriva così, magari è nascosto. Però sulle offerte, normalmente, è chiara, perché l'offerta è un contratto, e come contratto, quindi deve essere chiaro, viene riportato quanto pago, come pago e dove pago. Senta, all'ordo di tutte le voci di spesa, perché noi partiamo da 0,30 al metro cubo, se noi mettiamo insieme tutto, compresa l'IVA, una cifra plausibile di metro cubo si può dire, non so, un 60, un 70, un 90? Non glielo so dire. Non si può dire. No, non glielo so dire. Oltremmeno, adesso bisognerebbe prendere un'offerta di quelle buone e fare un po' di... Un calcolo. Non l'abbiamo fatto, perlomeno qui non ce l'ho, insomma. Questi casi che si sono ritrovati delle bollette gonfiate perché non hanno rinegoziato allo scadere dell'offerta che può durare un anno o due anni, perché lo ripetiamo, il contratto è a tempo indeterminato finché uno non cambia gestore. Però l'offerta ha una scadenza, che può essere un anno come può essere due anni. Erano comunque bollette di mercato libero? Certo. Ecco, quindi solo bollette. E chi invece era al mercato tutelato? Qui parliamo anche di una fetta di persone, soprattutto magari gli anziani o quelli con un ISEE contenuto, possono, visto che il mercato tutelato non c'è più, però c'è una forma di tutela anche per loro, che è il mercato dei vulnerabili. Però, come funziona questo passaggio? Allora, il passaggio è automatico per chi era già nel mercato tutelato. Quindi per chi era nel mercato tutelato, se ha le caratteristiche, quindi se ha più di 75 anni, se ha un'invalidità in base alla legge dell'invalidità, se ha altri fattori, un reddito, se hai bonus energia, questi sono i parametri che normalmente vengono usati, in questo caso passa automaticamente ed è passato automaticamente. Chi invece era al mercato libero perché magari evidentemente aveva scelto per delle offerte più vantaggiose, non lo so? Perché aveva scelto, anche perché non aveva l'età, magari chi oggi compie 75 anni, e compie oggi, da oggi, può fare la richiesta di rientrare nel mercato cosiddetto tutelato, che è poi il mercato dei vulnerabili. E questo conviene sempre rispetto al mercato libero? Guardi, il problema che convenga questo è relativo, perché secondo me, torno a ripetere, su 800 erotte aziende e quindi parliamo di qualche migliaio di offerta, magari ce ne sarà anche qualcuna che è più conveniente. Quello che, e noi ci battiamo e ci siamo sempre battuti per avere questo tipo di mercato, c'è un mercato tutelato, è soprattutto per dare sicurezza, per sicurezza, perché pensiamo che per alcune persone sia molto più difficile stare lì a seguire il mercato. È molto difficile, è complesso, non ce la fanno, poi possono avere sorprese. Con questo tipo di contratto sicuramente non ci sono sorprese. Sanno che hanno un certo tipo, possono programmare la spesa. I costi sono quelli, quelli che ci sono quelli. Sappiamo che ogni mese Rera pubblica i costi del prezzo del gas e in base a questo viene pagato. Però è importante dire che non è automatico, se io ho 75 anni, se ero mercato libero, che finisco nel mercato del vulnerabile. Devo fare una procedura che è quale? Una domanda. Una domanda nel sito di Rera. Nel sito di Rera va scaricato questo modulo. E va subito. Lo si può chiedere anche al gestore. Il gestore dovrebbe darlo. Sappiamo che tende a non darlo. Tende a rilanciare con delle offerte per l'Ibe. Che tende a dire che intanto si risparmia niente, che non vale la pena entrare. Però uno dice, ok, io lo voglio, il mio diritto, e quindi viene... Oppure può rivolgersi anche ai nostri sportelli, glielo scarichiamo anche noi. Insomma, non è un problema questo. Basta andare a entrare sul sito. Se uno non è capace di scaricarselo, lo facciamo volentieri. Non è un problema. Che consigli possiamo dare per muoversi anche in questo contesto molto confuso? Soprattutto anche alle persone che non sono a vezze a muoversi nell'ambito delle tante offerte che arrivano anche attraverso le telefonate, perché c'è anche il rischio che si possa incappare in truffe. Leggiamo proprio in questi giorni che quando si risponde al telefono è meglio sempre dire pronto, perché se poi si dice sì, qualcuno registra questo sì e come si sa i contratti, le offerte al telefono è una successione di sì e poi magari ci si trova con delle amare sorprese. Questo purtroppo è vero. Negli anni ci sono state molte di queste cose, ma purtroppo questo è il mercato. Quello che possiamo consigliare è che se qualcuno non si interessa troppo e non vuole andare a perdere troppo tempo nelle ricerche, quello che noi abbiamo sempre e continuiamo a dire è di non fare mai quei contratti a prezzo fisso. Questi ti dicono ti facciamo il contratto a prezzo fisso, paghi 0,60, 0,70 a metro cubo, paghi solo quello, sai che paghi quello e non hai sorprese. Sì, però appunto ho dato non a caso questa cifra, più o meno sono questi i prezzi che ci sono, parliamo da 0,30, quindi lo paghiamo il doppio. Poi comunque le spese ci sono, poi quindi sicuramente... Sì, perché lo 0,60, 0,70 non è comprensivo di tutte le voci, è sempre metro cubo. Perché invece se noi mettiamo insieme, sempre in quella sciocca suddivisione, metro cubo, prezzo finale al netto dell'IVA, magari viene fuori 0,60, 0,50, perché non è detto che noi paghiamo 0,30 al metro cubo, 0,30 è solo... No, paghiamo molto di più. Quindi si arriva a un 0,70 probabilmente, qui anche nel fare la suddivisione banale, diciamo che se supera... Il costo dell'energia adesso, il costo puro dell'energia sulla bolletta, se non ricordo male, è intorno al 45%. Ecco, quindi il resto 50%. Sono spese fisse e comunque quelle ci sono e non ci sono... Quindi sulla base di questo, se la matematica non è un'opinione, se il 50% facciamo ipotesi che il costo dell'energia è 45%, un costo giusto che noi si paghi il gas con tutte le voci potrebbe essere 0,60, 0,70 a farla larga. Più o meno. Più o meno. Quindi anche per capire se si sta pagando troppo si fa questo conto un po' della serva, spicciolo e banale, e si capisce se si è in una situazione tranquilla o se vale la pena, anche poi nel momento in cui si va a rinegoziare, perché poi ci possono essere ovviamente le persone che sono allo sportello che in qualche modo cercano, anche come diceva lei giustamente, perché quello è il loro lavoro, di presentare un vantaggio, invece uno dice, no, guarda che effettivamente qui sto pagando troppo, non è che mi puoi in qualche modo raccontare la fiaba dell'orso, in modo da essere pronti e poter scegliere in consapevolezza. C'è un'altra questione che spaventa, no, è che il passaggio da un gestore all'altro, che cosa comporta? Comporta dei costi? Assolutamente no, si può passare quando si vuole, si può passare in qualsiasi momento, per il momento. Quindi l'offerta di un anno non vincola il cambio gestore? No, per il momento no. Molti, sì, molti che magari sono anche informati, o spesso anche dei pensionati, che passano giustamente al vaglio le bollette, fanno anche un gioco, che non so quanto conveniente sia, di cambiare gestore, non dico ogni settimana, ma quasi, lusingati magari da delle proposte che leggono, eccetera. Anche questa può essere una pratica, che poi alla fine... Allora, quello... Però lo fa, esiste. Sì, 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 esiste questo... Il mondo esiste perché è vario. Perché è molto vario, quindi tutto è possibile. Allora, quello che noi possiamo dire è questo, tenete presente che dai conteggi che abbiamo fatto da sempre, le differenze che ci sono tra una tariffa e l'altra, si risolve poi a una cinquantina di euro... Insomma, un gestore vale l'altro. Un gestore vale l'altro. L'importante... A meno non trovare il bandito, come per esempio in questi momenti, Enel o Eni, perché vi dico, lì siamo veramente a costi assurdi del gas... Ma adesso che sono stati multati, no? È solo una multa, una sanzione amministrativa, adesso... Non gli hanno detto di rientrare... Eh, appunto. Eh no. Quindi loro hanno potuto agire... Questi continuano ad avere queste... A montare queste tariffe. Ne abbiamo, ne abbiamo parecchie. Abbiamo parecchie non solo qua, ma in tutta Italia. Quindi il discorso c'è, insomma. Il fatto che sia stato posto a fine al mercato tutelato, cosa che succederà anche per l'energia, dal vostro punto di vista, no? Che voi rappresentate i consumatori, è stato qualcosa di positivo? No. Ecco. No. Noi l'abbiamo sempre combattuto, ci siamo sempre stati contrari da questi anni, abbiamo sempre sperato che ci fossero, come è successo in tutti questi anni, che ci fossero dei momenti più avanti, che fosse spostata più avanti la cosa. Purtroppo hanno preso questa decisione. È una decisione che non porta nessun vantaggio e torniamo a ripeterci, tra l'altro, che non riusciamo a capire perché non ci sia un controllo su queste aziende che distribuiscono energia. Perché sono alcune serie altre poco serie, altre banditesche. Cioè, c'è di tutto dentro. Ma come è possibile? E non è possibile che ci siano 800 aziende che distribuiscono. Perché? Perché chiunque può mettersi. Cioè, anche io posso aprire. Anche lei può aprire. E come? Non ci sono controlli, non c'è nulla. Perché in realtà c'è un solo distributore di gas. Perché non è che siano, nessuno distribuisce il gas. Sono solo delle aziende che fatturano. Come commercializzano? Che fatturano. Quindi comprano all'origine? No, non comprano. No, neanche. Come funziona? Fatturano perché c'è un solo distributore del gas. Il gas che arriva a me, a lei, non possiamo comprarlo, cioè, possiamo farcelo fatturare da qualsiasi azienda, ma in realtà viene da uno solo che ce lo porta. Sì, ma questa azienda deve comunque acquistarlo in qualche modo. Sì, ma acquistano azioni. Sì, non sono azioni. Sì, acquistano quantitativi, quantitativi in base alle offerte che hanno, ma in realtà non c'è, è per questo che è perfettamente inutile. Soprattutto però non viene controllato di queste aziende qual è la loro storia, quindi qualcuna che non conosce nulla dell'energia e si è messa a distributire energia, non ha solidità e anche questo è importante perché può essere importante. Quindi ci sono molte cose sulle quali dovremmo riflettere. Una cosa, ritornando, attenzione, perché i call center che fanno le offerte, un conto è che le fanno a me, a lei, a qualcun altro e alle volte sono molto aggressivi. Sì, no, fatti per quelli. Questo è il problema. Quindi diventano aggressivi, uno si prende, fa prendere il panico e gli dice di sì. E anche questa è una cosa che abbiamo segnalato più volte. Ma qui bisognerebbe anche intervenire, se non sbaglio, cioè ci sono dei provvedimenti, no? Ci sono stati, ci sono stati. E anche di recente che con center non possono essere molesti. Ma continuano. Non possono essere molesti. Quindi che consiglio dare? Invece che rispondere ai con center magari andare presso gli sportelli. Però qui ricadiamo in un circolo vizioso. Gli sportelli fisici li hanno solo le grandi aziende. Però lei mi sta citando dei casi di due colossi dell'energia che poi alla fine sono stati i primi a commettere delle forzature lecite, ma sempre delle forzature, chiamiamole così. Non sono neanche lecite secondo noi, ma sono le forzature anche lecite. Ma ci sono gli estremi anche per degli interventi penali. Vedremo cosa fare, solo che il problema cosa è, come si fa, chi è che si mette a fare una causa per mille... Una clax action. Una clax action, voi sapete che... Che in Italia è un po'. È una bella parola, ma poi farla è un'altra cosa. Quindi bisogna capirsi un attimo su che cosa possiamo arrivare. Quindi almeno i grandi nomi sono una garanzia perché magari qualcuno dice... Però se c'è uno sportello insomma, se c'è un altro per risolvere le cose al di là del caso in sé però per risolvere le cose ma anche il fatto di telefonare a noi alle aziende. a servizio clienti. Perché il problema è al di là adesso se uno non ha lo sportello però ha il numero dell'azienda, telefona all'azienda e parla con un'azienda. Il problema è che... E pone anche un quesito per cui devono dare risposta ad un quesito. Questo è il problema. importi in qualche modo con l'using una proposta. Perché i consente sono pagati a contratto. Quindi questi qua non interessa assolutamente nulla. No, poi hanno una parte da recitare e la recitano e basta. Poi magari anche legati alla stanchezza questa aggressività poi fa parte del training che viene fatto se vuoi rimanere a lavorare al consente. Certo. Sì, sì, perché poi questa è tutta una metodica. Perché se un giorno non hai fatto i dieci contratti non resti a lavorare tanto. Però ecco, forse è qui che bisognerebbe intervenire perché qui siamo proprio nell'ambito. Noi le segnalazioni le facciamo regolarmente. Abbiamo fatte sia a livello nazionale sia a livello locale. E diceva non si capisce perché sia stato abolito il mercato tutelato parliamo del gas. Siamo l'unico paese in Europa che non ha il mercato tutelato. Quale percentuale di consumatori aderiva al mercato tutelato e quanti avevano già scelto il mercato libero? Perché poi c'è stato in passato anche un grande endorsement al mercato libero che lei ci sta dicendo insomma poi alla fine non è stato così risparmioso per i consumatori come si è creduto. Io lo asserisco non ho paura di smentire. Chi era il mercato libero ha comunque pagato di più di chi era il mercato tutelato. O perlomeno non ha pagato tanto non ha pagato meno questo è la cosa. Io so che gli ultimi dati che abbiamo quando è terminato erano circa 17 milioni di famiglie nel mercato tutelato. Quindi un buon 50% anche sicuramente. Quindi questo spiega perché c'è tutta questa confusione. Sì c'è tantissima gente che ha difficoltà reali a entrare e non io stesso non ho fatto nessuna scelta e quindi sono una bella tariffa placet senza nessun problema. No, non tutti magari avevano con una conoscenza così dettagliata della materia anche perché si ricorda che qualche anno fa insomma la liberalizzazione sembrava un po' no? La panacea di tutti i mali e usciamo dai monopoli evitiamo di essere e però questo adesso ci sta dimostrando anche perché poi forse non è proprio così il mercato libero è come il mercato azionario per certi versi perché il prezzo del gas si diceva prima legato alla borsa olandese non si capisce il gas è stato legato per convenzione al prezzo della borsa e per questo che negli anni non è stata nessuna guerra che ha fatto l'aumento del gas nessuna caristia particolare c'è stata solo una speculazione di una borsa molto piccola che è quella olandese qui è anche facile fare una speculazione ed è partita da questa speculazione chi investe in borsa sa che fa speculazioni ma chi deve usare il gas per il riscaldamento non è che va in cerca di fare speculazioni assolutamente chi si è trovato queste bollette esagerate che purtroppo deve onorare riesce a ottenere almeno una suddivisione in pagamenti rateizzati allora la rateizzazione la devono fare la fanno se non gliela fanno torno a ripetervi rivolgetevi a un'associazione di consumatori perché sicuramente la devono fare normalmente la rateizzazione va chiesta prima della scadenza della bolletta anche se su questo dopo ci si trova di fronte che poi gli telefoni ti dicono no no ma prima creano appositamente confusione però questa è la prassi comunque la devono fare e soprattutto rivediamo questo concetto che forse la cosa pratica più immediata rivegoziare quando si ha la consapevolezza che si fa un dividendo della cifra per i metri cubi viene fuori qualcosa oltre 0,70 una telefonata al proprio gestore per dire io sto pagando troppo voglio rinegoziare a meno che non si possa dire che non abbia fatto il contratto proprio specifico perché se dopo uno l'ha scelto però parliamo di contratto a tempo indeterminato che non è l'offerta perché le offerte che sono legate al contratto hanno una scadenza limitata di un anno al massimo due perché spesso le offerte sono musinghevoli due oggi è molto molto difficile oggi sono dai 6 mesi ai 12 mesi quindi fare attenzione fare attenzione perché scaduti i 6 mesi quella che è l'offerta vantaggiosa potrebbe diventare una spada di Damocle attenzione soprattutto alle offerte che ti dicono dimmi quanto vuoi pagare e io ti faccio pagare quello che è una bella no ma in pubblicità questa lo fanno quindi attenzione perché è vero che pagate quello che voi decidete pagare 60 euro però poi a fine anno fanno il conguaglio e i conguagli sono piuttosto pesanti quindi attenzione attenzione a questo attenzione a tutti questi meccanismi non è che uno ti regali le cose quindi se non si sa non si riesce a leggere la bolletta con precisione e consapevolezza ci sono sempre le associazioni di consumatori a cui rivolgersi o gli stessi sportelli dei vostri gestori che siano sportelli fisici o siano servizio clienti al telefono chiamando noi in modo da sollevare le problematiche e vedere se ci sono delle risposte adeguate su questo senz'altro io ringrazio Paolo Ormesi presidente di Fed del Consumatore di Venezia ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina sperando di avervi dato qualche informazione in più per potersi muovere in un ambito quella del gas e della luce ripeto la luce sarà a luglio per cui chi è nel mercato tutelato il consiglio è di rimanerci in modo da avere garantito per un certo periodo quello che state pagando adesso e per gli altri valutate le offerte che avete e soprattutto sempre consultare il sito di Arera dove ci sono i parametri del costo puro del metro cubo per il gas e del kilowatt per la luce e sempre rinegoziare che non costa nulla non costa nulla basta chiederlo si chiede si va e si chiede e dopo eventualmente se si trovano altri gestori però sempre nella consapevolezza certo io ringrazio Paolo Orbesi ringrazio voi grazie arrivederci domani grazie a tutti grazie a tutti